Le nomine dei nuovi direttori generali delle ASL abruzzesi sono state fatte per premiare i risultati raggiunti in questi anni, così ha specificato il presidente Marco Marsiglio a seguito della selezione. Tra coloro che sono stati confermati Thomas Schell per Chieti e Maurizio Di Giosia per Teramo, proprio quest'ultimo ripercorre gli anni difficili della pandemia tirando un bilancio. Comunque siamo riusciti a gestire tutta la gravità della pandemia in maniera egregia, grazie anche allo sforzo dei nostri operatori, grazie alla sinergia, al lavoro di squadra che c'è stato in questa azienda che è determinante e su cui noi mettiamo le fondamenta per lavorare anche nel futuro. Un'altra importante attività che abbiamo messo in campo è quella del ripensamento completo della gestione territoriale. La pandemia ci ha insegnato tanto su come intervenire sulla gestione sanitaria e territorio e noi siamo riusciti, grazie alla volontà di tutti i miei collaboratori, a mettere in campo delle azioni ben focalizzate su questo. Inoltre si concentra sugli obiettivi dei prossimi anni e l'abbattimento delle liste d'attesa e il nuovo ospedale in sinergia con la regione. Ecco, la sfida più grande è quella delle liste d'attesa che è un problema annoso, un problema che coinvolge tutta la nazione, non è solo un problema nostro, è ovvio. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi, su questo fronte io metterò la faccia, adesso faremo un gruppo di lavoro dedicato a questo per far sì che abbia un peso minore. Andare a prenotare una visita e gli viene data una data a un anno. È assurdo e vergognoso, lo dico io per prima e quindi bisogna fare in modo che questo non accada. E soprattutto, ecco, dopo c'è la sfida del nuovo ospedale, su cui stiamo lavorando in stretta sinergia con la regione, affinché a breve si abbiano dei frutti.